Schurk, Bokendor Anche lui si guadagna Il coro dei Sir Maniaci 16 pari, lanza Rossini Costringe Chris Henson al movimento Bella palla però da parte dell'americano Che poi riceve Della superrega E veramente L'espressione della palla Poi italiana Proprio in questa partita di questa sera Ma poi come diceva Andrea Domani il forum d'assago per la prima volta Nella storia, una partita di palla a volo Forse è tornato a dire i vecchi I vecchi testi sono quelli Tra l'esercito e me vedete Siamo con le donne che sveggiamo Con la pia del Sir Maniaci Che strettante E ci aspettiamo proprio domani E ora I tifosi della Sir C'è un discorso C'è un discorso Il discorso però che dopo il primo Tanto La palla È un discorso E' 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 una buona palla rapida Veloce E' un discorso E' un discorso Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.